Ok, perfetto. Alvaro, bentornato. Quali sono le tue sensazioni per questo passaggio alla Juventus? Una sensazione bellissima per me, il fatto di tornare qua. Sono stato sempre legato qua e sono felicitissimo. Non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni. È stata molto bella la prima epoca, però sono convinto che sono un giocatore migliore, che sono anche cresciuto in tante cose della mia vita e penso che sarà un percorso bellissimo un'altra volta. Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Juventus? Io mi troverei sempre pronto per la Juventus perché più che un grandissimo club, una grande squadra e una famiglia penso che quando tu stai in un posto che lo senti a casa, sempre c'è il vuole. Iscriviti al canalti? Iscriviti al canale? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti